Betta per due, punteggio pieno tra le capolista per la sola, Virtus Matera nel campionato di Serie C-Silver Pugliese di palacanestro. La quarta perla dei Lucani arriva dalla sfida contro Basket Francavilla, incrocio da palcoscenico superiore per partecipazione di pubblico e qualità degli interpreti in campo. Vince Matera per 98-95 nonostante il prepotente ritorno degli ospiti nell'ultimo periodo che sembrava foriero di un clamoroso colpaccio. Nella Virtus 31 punti per Staselis e 26 per Bagdonavicius, mentre la squadra di coach Caforio risponde con 5 uomini in doppia cifra su tutti, Canturek con 22 punti e Leo con 21. In cima ad 8 punti ma con 5 incontri disputati c'è anche palacanestro Molfetta che regola Cusbari per 94-73. Trascinata da Christensen, miglior marcatore di giornata con 36 punti, nutrito il gruppo a quota 6 in classifica che annovera le protagoniste di due colpi esterni a Sibrindisi che passa a Monopoli per 76-62 con 21 punti di Zvetanovic e 20 di Rolic e la scuola di basket Lecce che sbanca trami per 73-61 ribaltando l'inerzia del terzo parziale. Terza vittoria in altrettanti incontri e vetta virtuale del girone per Barletta Basket che si impone su Canusium per 82-74 con ben 6 uomini in doppia cifra. È però la Tella con 22 punti, il più prolifico fra gli ospiti che non riescono ad evitare un KO decisivo per la prosecuzione del rapporto con Coach Cadeo sollevato dal proprio incarico. Completa il quadro il secondo squillo di Anspi Santarita Taranto che prevale su nuova cestistica Barletta per 92-80 con 24 punti di Delage 21 di Cianci, tanti quelli realizzati da Weisglus sull'altro fronte. Nel prossimo turno Matera in visita a Bari e Molfetta impegnata a Barletta in una grande classica contro nuova cestistica.